cari amici di tutto io e stabbia ben ritrovati circa il solito appuntamento che il sottoscritto e la redazione hanno deciso di regalarvi anche quest'anno un roboante successo della juve stabbia in terra corsara al giro di torre annunziata contro il savoia 3 a 1 per le vespe di castellammare di stabbia di mister savini un 3 a 1 che lascia piacevolmente sperare e disinibire la mente ai sogni di gloria per quella che è la consagrazione eventualmente in un posto importante in terza posizione giocarsi i playoff a vele auguriamoci spiegate chiaramente la us abbia raggiunto 63 punti che è un bottino particolarmente importante significativo e impegnativo mancano quattro gare alla fine due derbissimi con benevento e salernitana per opporsi alla loro eventuale promozione diretta in b almeno al cospetto delle vespe e soprattutto per consacrare la nostra la propria posizione in classifica venendo al match di torre annunziata mi va subito di dire in maniera certa in maniera serena in maniera sportiva e alquanto diplomatica che sono stato vicino alla ai tifosi al dispiacere agli sportivi tutti di torre annunziata e di castellammare di stabbia per non aver in malo modo potuto partecipare a questo match a mio avviso è una morte latente ma palese del calcio non si può privare uno sportivo cittadino nella propria squadra del cuore di vedere la partita del cuore non si può privare a un cittadino ospite di vedere la partita della propria squadra del cuore mai vorrei immaginare un domani di portare mia figlia di poter o voler portare mia figlia allo stadio romeo menti e vedermi privata nella mia persona è quella di mia figlia la possibilità di fare per la mia Juve Stabbia così come mi è dispiaciuto immaginare che uno sportivo di torre annunziata potesse col proprio piccolo privarsi o essere privato della propria squadra del cuore non ce ne vogliano prefetti procure e province ma non è questo il calcio che il sottoscritto e altri amici vorrebbero vedere per ciò che concerne il match non c'è stata mai partita sono tanti i punti di differenza tra Juve Stabbia e Savoia lo si è dimostrato nel campo una Juve Stabbia concreta incisiva abbiamo rischiato nel primo tempo di perdere la partita dopo una bella prodezza dell'avanti di torre annunziata un gran bel gol dell'argentino poi infortunatosi nel secondo tempo e soprattutto una bellissima e roboante reazione della Juve Stabbia segno che si vuole sicuramente mantenere intatta la posizione in classifica bella la prestazione di Capitan Caserta funambolico ripa a segno con due gol scoppiettante tra virgolette anche il subentrare di carrozza in campo non cambiamo mai bandiera o vento in corso d'opera lo abbiamo criticato giustamente due settimane fa il sottoscritto ha definito carrozza e non si sarebbe mai augurato di volerlo definire un ex calciatore carrozza ha dimostrato al mio piacevole cospetto di essere ancora un calciatore importante così lo vogliamo e magari poterlo criticare nuovamente per poi riconsacrare carrozza come gran calciatore bene carrozza bene la Juve Stabbia bene Ripa bene di Carmine bene tutti continuiamo così contro la Salernitana per una gara importante per dimostrare di essere orgogliosi cittadini sabbiesi per essere orgogliosi sportivi di Castellammare di Stabbia gente educata gente per bene che sa fare calcio e sa ti fare propria squadra del cuore avanti Vespe